Sfuggito al blitz dello scorso 16 gennaio, AP è finito in manette appena il suo volo proveniente dalle Maldive ha toccato terra. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla DDA partenopea, lo hanno aspettato al terminal arrivi dell'aeroporto di Fiumicino. Il tempo di recuperare i bagagli e poi il trasporto immediato nella sua abitazione dove è stato sottoposto ai domiciliari. AP è tra i 29 indagati coinvolti, a vario titolo, nell'importazione su larga scala di stupefacenti dall'Olanda e dalla Spagna verso le piazze di spaccio più fiorenti della provincia napoletana. Una gestione del narcotraffico è passata attraverso chat e telefoni criptati, inizialmente ritenuti inattaccabili. I carabinieri hanno monitorato gli spostamenti del 29enne e scoperto che era in vacanza alle Maldive. Hanno atteso il suo rientro nello scala romano e lo hanno catturato. Grazie per la visione!